tavola 52 prospettiva di due gradini questa tavola non presenta particolari difficoltà e non ci sono cose nuove rispetto a quello che abbiamo fatto in precedenza nella tavola 51 abbiamo fatto la prospettiva di un cubo adesso di fatto qui sono due parallelepipedi uno a fianco all'altro con la stessa base e con l'altezza uno al doppio dell'altra allora iniziamo a rappresentarli come sempre nel piano della pianta nelle loro dimensioni reali quindi questi due gradini saranno larghi 4 cm e avranno una pedata di 1,5 cm quindi sono due rettangoli 4x1,5 cm uno a fianco all'altro allora come prima operazione troveremo le tracce di queste rette le rette interessate sono di fatto 5 perché sono le tre rette parallele alla lunghezza del gradino alla larghezza del gradino e le due rette parallele tra di loro lungo la pedata del gradino non metteremo le lettere di tutti i punti perché sarebbero troppe abbiamo indicato con T esclusivamente le tracce di questi punti di conseguenza troveremo le fughe eccole qua è rappresentate in verde ho usato il magenta per le tracce e il verde per le fughe le fughe saranno ovviamente due parallele tra di loro cioè in quanti lati sono paralleli tra di loro ecco quindi tutti i punti che a noi servono sono queste cinque tracce e queste due fughe allora portiamo le tracce e le fughe come sempre nel piano della prospettiva per cui le tracce le portiamo nel piano nella linea di terra e le fughe le portiamo nella linea dell'orizzonte uniamo tra di loro le tracce e le fughe e quindi di fatto abbiamo già trovato questa parte qui che è l'ingombro in pianta dei nostri due gradini dobbiamo adesso aggiungere le altezze allora come faremo innanzitutto come abbiamo già fatto nei punti di partenza dei gradini tireremo su delle altezze parallele tra di loro quindi delle linee verticali però adesso indefinite che rappresenteranno le altezze dei gradini passaggio successivo che cosa faremo? nella traccia diciamo così della retta che è lungo la pedata quindi dove avremo tutte e due le altezze possiamo lo ingrandisco eccolo qua possiamo portare l'altezza reale l'altezza reale del gradino è 1 quindi ricapitolando ogni gradino è largo 4 ha una pedata di 1,5 e una alzata di 1 quindi 1 è l'alzata quindi porteremo 1 che è l'alzata del primo gradino e 1 che è l'alzata del secondo infatti i gradini ecco saranno questi qua adesso li vediamo bene quindi portiamo le due altezze e dalla misura reale presa appunto sulla traccia quindi diciamo sul quadro portiamo le rette alle fughe tutte e due le rette alle fughe come abbiamo già fatto del resto anche per il quadrato bene fatto questo faremo la stessa operazione nell'altra parte del gradino quindi da un'estremità all'altra per lungo la larghezza eccolo qui quindi portiamo 1 cm 1 cm e anche queste convergeranno alla stessa fuga quindi tutte queste linee essendo parallele a 3 loro convergono tutte sulla stessa fuga andando ulteriormente avanti possiamo già unire i gradini nell'altro verso quindi la parte finale con la parte finale destra e sinistra destra e sinistra in tutti i casi come abbiamo già visto nel cubo l'unione di queste due righe se siamo stati precisi dovranno poi coinvolgere e convergere nel punto di fuga che sta da questa parte quindi di fatto i gradini li possiamo già vedere adesso che cosa faremo incomincieremo a ripassare le linee ripassiamo così il fianco del gradino con la mina F ripassiamo la parte di gradino che va verso praticamente la larghezza di tutti i gradini e ripassiamo poi la parte finale del gradino quello che manca è la parte diciamo lo spigolo nascosto che sarà questo qua eccolo qua questo qui sarà lo spigolo nascosto gli spigoli nascosti che di fatto sono 3 in questo modo il disegno diciamo così è completo lo rivediamo nella sua interezza lo facciamo togliamo i colori e utilizziamo bene le mine quindi tutte le linee sottili saranno con la 2H e le F saranno con la con la F ripasseremo gli spigoli finali quindi che saranno nella vista del piano della pianta i due rettangoli di base quindi i gradini visti dall'altro e in prospettiva saranno di fatto con lo stesso criterio che abbiamo usato per le assonometrie grazie a tutti